Finalmente dopo aver ricevuto un po' di ossigeno per le opere sia da RFI che dall'ANAS possiamo finalmente sbloccare circa 4 milioni di euro di fatture che erano lì bloccate nei nostri cassetti non per cattiveria ma per rispetto del patto di stabilità che dice anche se avete i soldi non potete pagare perché quelli di Napoli li buttano via, speriamo che non sia più così ma comunque fatture ferme dal primo gennaio di quest'anno adesso saranno pagate regolarmente quindi un po' di respiro per chi lavora in provincia di Verde